La costa che va da acqua ladrone a Timpazzi è a rischio, i forti venti di libeccio che dei giorni scorsi hanno infatti dato vita a violentissime mareggiate che hanno prodotto ingenti danni, lambendo persino le case. Durissima la denuncia del consigliere della sesta circoscrizione Mario Biancuzzo, che questa mattina in conferenza stampa, sostenuto dal gruppo consigliare dei centristi per la Sicilia, ha fatto la conta dei danni. Abbiamo avuto già un paio di giorni fa un forte vento di libeccio, il quale ha continuato a danneggiare e aggredire il territorio della costa che va da Timpazzi fino a Ponte Gallo. Il mare ha divelto un tratto di fognatura spazzando via tutta l'adubazione. In questo momento la fognatura va a mare e quindi bisogna intervenire per ripararla e spostarla più a monte perché ormai il mare, che prima c'era 500 metri di spiaggia, che io mi ricordo quando ero più piccolo, adesso è ridotto proprio a lumicino, ad acqua ladrone. Il mare ha lambito le case, è entrato sul lungomare di acqua ladrone, quindi abbiamo già ormai un territorio che bisogna intervenire urgentemente. Secca la richiesta dei democratici che siedono in consiglio comunale. Occorre ricavare, modulare risorse economiche e finanziarie, che chiaramente non sono quelle comunali ma sono quelle nazionali ed europee, intervenire con un progetto globale che riguardi tutto il litorale affinché non ci siano interventi singoli che purtroppo poi diventano interventi tampone ma non risolutivi in quanto poi il problema si sposta nel litorale accanto.